Ciao, bella a tutti ragazzi, sono Pee e quest'oggi sono qui per mostrarvi un paio di metodi tramite i quali scoprire quello che è l'indirizzo IP del PC di un vostro contatto email oppure di un vostro amico tramite programmi di instant messaging come Facebook o Live Messenger o anche qualsiasi altro. Allora, partiamo appunto da questo primo metodo, prendiamo come esempio Facebook che va benissimo, molto comune come social network e se volete scoprire l'indirizzo IP del vostro interlocutore, del PC del vostro interlocutore, basterà scaricare un programma molto leggero, facilmente reperibile e soprattutto gratuito che è Network Active. Lascerò ovviamente i link in descrizione ed è un programma molto semplice da utilizzare che tramite i pacchetti ricevuti dal vostro PC quando il vostro amico vi scrive un messaggio riuscirà ad avere l'indirizzo IP. Molto bene, come secondo metodo avevo detto quello che riguarda le diciamo mail, qui entriamo più nello specifico perché, allora, i programmi che si possono utilizzare per visualizzare le proprie mail sono differenti, ci può essere Outlook Express, Live Messenger oppure altri programmi come può essere ad esempio Thunderbird. Ad esempio io utilizzo, visto che ho 7, Windows Live Mail, Windows Live Mail così come Outlook Express procedimento identico, basta cliccare col tasto destro su una mail, fare, scusate, proprietà e in dettagli guardare la voce Received From e tra parentesi vi comparirà l'indirizzo IP del vostro mittente, del computer del vostro mittente. Chiudiamo Mentre per altri programmi come ad esempio accennavo a Thunderbird cambia leggermente quello che è il procedimento, basta selezionare un messaggio, andare su visualizza e sorgente messaggio. Gli utilizzi che si possono fare degli indirizzi IP una volta che si sono ottenuti sono molteplici, si può rintracciare la posizione di quell'indirizzo IP, si può utilizzare per accedere al computer o al server che quell'indirizzo IP va ad identificare, si possono avere moltissime informazioni che sono racchiuse nell'indirizzo IP come ad esempio il peso d'origine, il sistema operativo utilizzato, il tipo di connessione, il browser. Ecco, moltissime sono le cose che si possono fare tramite l'indirizzo IP di un PC. Questi qua sono i due modi diciamo più semplici e immediati per poterlo ottenere di un qualsiasi computer e magari in video successivi vedremo un attimino poi i vari utilizzi che se ne può fare. Per ora un saluto a tutti, ciao ragazzi!